Namaste, sono Sara e ti propongo una pratica di yin yoga per distendere i quadricipiti, quindi ottima da fare ad esempio se corri o se cammini molto. Per questa pratica, oltre al tappetino, ti può essere utile avere due blocchi e una coperta, non è necessario, puoi anche benissimo fare senza, mentre il tappetino sì è necessario. Quindi, iniziamo prendendo i nostri blocchi e mettendoli davanti al tappetino. Iniziamo a portare il piede sinistro tra i nostri blocchi. Il ginocchio destro è in terra, il collo del piede è in terra. Quello che vogliamo è abbassare lentamente il bacino, spostandolo verso il basso e verso il nostro piede sinistro. Vogliamo farlo in modo graduale, quindi senza arrivare subito alla massima espressione della posizione, e anche molto lentamente. Lo yin yoga è una pratica nella quale si rimane a lungo nelle posizioni, quindi man mano diamo la possibilità ai nostri muscoli di distendersi in modo naturale. I blocchi a cosa ci servono? Perché hanno tre altezze, quindi possiamo sollevarli in questo modo e appoggiare le mani. Quindi modifica la posizione in modo tale da trovare l'altezza e il livello che ti fa sentire a tuo agio. E come ti dicevo, magari man mano modifichi. Modificare in questo caso vuol dire o abbassarsi, quindi allentare la distensione della gamba destra, oppure sollevarsi di più e man mano sollevare il busto spostandolo leggermente indietro. Quindi io ti consiglio di iniziare veramente dal basso. Mentre siamo nella posizione respiriamo, rimaniamo con calma. Cerca di usare il tuo addome nel respiro. Vivere una respirazione che sia lenta e dolce. Perché l'estensione di questi muscoli, soprattutto se non fai mai questo tipo di esercizi, può suscitare anche una sensazione quasi di rabbia, di fastidio intenso. Che è normale, chiaramente, no? Stiamo chiedendo al nostro corpo di fare qualcosa che solitamente non fa. e lo abbiamo usato facendo sempre gli stessi movimenti, senza mai dargli una tregua nel distendersi. Magari abbiamo allenato molto i quadricipiti, senza mai creare distensione. Questa posizione è anche ottima ovviamente. Lavora tantissimo, in verità, sui flessori delle anche. Quindi, sullo psoas. Ok, pian piano. Risolleviamo. In verità, andiamo a fare una seconda parte molto simile, però volevo farti vedere con la coperta come aiutarti in questa posizione. Quindi la metti in modo tale che puoi appoggiare il ginocchio destro sulla coperta. Il piede sinistro è sempre in avanti, però sposti il piede sinistro sul bordo del tappetino e lo ruoti a 45 gradi in fuori. Qui possono sempre servirci i nostri blocchi. Puoi anche avere le mani a terra, chiaramente. Vogliamo abbassarci. Mettiamo l'avambraccio destro a terra o su un blocco e con la mano sinistra andiamo a afferrare il piede destro che gentilmente andiamo a attirare il tallone verso il gluteo. Anche qui sentiamo il respiro. Ci siamo facciamo una bella torsione. Cerchiamo di aprire bene il petto e di portare la nostra respirazione a essere più toracica. e di portare il petto. lentamente lasciamo andare risaliamo sulle nostre mani e riportiamo le ginocchia dietro di noi ci sediamo un attimo sui talloni andiamo a fare entrambe queste posizioni dall'altro lato quindi portiamo il piede destro in avanti puoi lasciare anche qui il ginocchio sulla coperta collo del piede in terra e poco per volta muovi il bacino in avanti cerca di tenere comunque la schiena stesa in ogni posizione vogliamo avere una respirazione che sia il più possibile completa e cerca di respirare attraverso le narici sia in espirazione che espirazione questo siccome le narici sono più strette chiaramente della bocca per forza il nostro respiro diventa più lungo quindi per prendere per lasciare andare più aria ci vuole più tempo ovviamente e quindi questo rallentare il ritmo del respiro calma il nostro sistema nervoso e come si dicevo può essere diventare anche molto emotivo il fatto di andare a distendere questa muscolatura soprattutto in questa posizione che distendiamo anche lo psoas possono affiorare delle emozioni e in questo modo le viviamo nella maniera più più calma più tranquilla possibile quindi accettando questa estensione accettando il lavoro sul nostro corpo e sulla nostra mente che stiamo facendo grazie alla pratica dello yoga se vuoi man mano modifica se vuoi sollevarti un po di più lentamente ci spostiamo indietro se vuoi direttamente porti il piede destro sul bordo esterno del tappetino ruotandolo a 45 gradi in fuori iniziamo a sistemare i blocchi se li vogliamo usare distendiamo la gamba sinistra dietro di noi andiamo a portare l'avambraccio sinistro in terra o sul blocco e prendiamo il piede sinistro con la mano destra anche qui apriamo e poi andiamo a portare l'avambraccio sinistro con la mano destra anche qui apriamo e poi andiamo a portare l'avambraccio sinistro con la mano destra anche qui apriamo lasciamo andare mani nuovamente in terra e ritorniamo a sederci bene queste sono due posizioni di yoga puoi rimanere più a lungo nelle posizioni però la stessa durata da un lato e dall'altro è ideale ovviamente sul nostro sito lascimia yoga.com troverai molte pratiche di yoga che puoi anche selezionare per parti del corpo quindi se ti interessa lavorare nello specifico ad esempio sulle gambe puoi selezionare le pratiche per le gambe io ti aspetto sul sito e noi ci vediamo per la prossima pratica namaste grazie a tutti grazie a tutti